L'aggressione ad un uomo di 37 anni nella notte di martedì da parte di un gruppo di ragazzini in piazza Volta a Como torna ad accendere i riflettori su una zona della città già teatro nei mesi scorsi di altri episodi di cronaca che hanno visto protagonisti altri giovanissimi. L'uomo di origine pakistana è stato avvicinato in base a quanto è stato possibile ricostruire mentre stava camminando. È stato circondato con il pretesto di una sigaretta, di fronte alla sua risposta negativa sarebbe stato colpito al volto con un pugno rimanendo stordito. È stato poi derubato del cellulare. Infine i ragazzi sono scappati. Sull'accaduto indaga la polizia di Stato. L'assessore alla sicurezza del comune di Como Elena Negretti è cauta nel commentare l'accaduto e nell'affrontare l'argomento. Sono in corso ancora delle indagini e vanno compresi bene i dettagli di quanto avvenuto. Da parte nostra abbiamo immediatamente consegnato le immagini delle telecamere della piazza alla polizia di Stato. Spiega Non parlerei ancora di tema sicurezza perché potrebbero essere molteplici gli scenari di quanto accaduto spiega ancora l'assessore. La collaborazione con la polizia è ovviamente sempre massima e attendiamo gli esiti. Piazza Volta, come detto, di recente è stata al centro delle cronache. Lo scorso 8 luglio sono stati arrestati due minorenni di 16 e 17 anni che, ad ottobre, avevano brutalmente rapinato un 27enne turco. A poca distanza, tra i porti Ciplino e Piazza Roma, lo scorso 16 giugno, un minorenne venne rapinato da una baby gang. E ancora, lo scorso 1 giugno, si erano vissuti momenti di follia, sempre in Piazza Volta, quando un 34enne tedesco aveva dato in escandescenze prendendosela con alcuni presenti e danneggiando gli arredi di un locale. A questi episodi si aggiungono i problemi di inciviltà vissuti durante quest'estate con l'area lasciata sporca e piena di rifiuti dopo una notte di divertimento.